Il Teatro Petrarca riaprirà entro la fine dell'anno. L'annuncio è del sindaco di Arezzo Giuseppe Fanfani e la conferma arriva anche dall'assessore ai lavori pubblici Franco Dringoli intervistato dal sito arezzora.it I lavori non si sono mai fermati, afferma Dringoli. Ci sono state delle vicissitudini con l'impresa che adesso però si sono risolte. In questi giorni si stanno rifinendo gli stucchi e si sta rendendo accessibile la terrazza sul retro del teatro, la quale avrà un accesso indipendente da Piazza del Popolo e sarà avvocata ad attività all'aperto inerenti alla stagione teatrale. Alla domanda sulla data della riapertura, Dringoli precisa se non ci saranno difficoltà, la riapertura è prevista per fine novembre. Arezzo è orfana del suo teatro ormai da anni. Il restauro iniziato nel 2011 doveva terminare entro due anni ma purtroppo ne sono passati già tre e ancora, tranne gli annunci, gli aretini non hanno visto altro. Che questa sia la volta buona ormai non possiamo dare nulla per certo. Aspettiamo soltanto il nostro tricolore.